Per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno e Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Sino Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Sino Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, pira di grazia al Signore.